questa è la fascia da braccio impermeabile impermeabile come potete iphone 6s potete venire diciamo in finta pelle molto ben definito finita proprio bene come possiamo metterla chiave come potete vedere per braccio e bello largo si può mettere dal lato qua mettiamo lo smartphone nei altri lati abbiamo due uscite sopra e due uscite sotto per vedere se si mettono auricolari o da sotto non da sopra che possiamo mettere anche qualche l'altro smartphone diciamo è un poco universale a definizione fatta molto bene quindi che dire io lo consiglio a tutti